La lotta al diabete di tipo 2, che colpisce soprattutto gli anziani, non può prescindere dalla dieta e dall'attività fisica. Se ne è discusso al congresso internazionale dell'ADA, American Diabetes Association, con più di 14.000 delegati da tutto il mondo. L'attenzione è stata concentrata soprattutto sui prediabetici, cioè tutte quelle persone a rischio di sviluppare la malattia. In Italia non c'è una stima precisa di prediabetici. I specialisti però spiegano che per evitare di sviluppare la malattia bisogna migliorare la qualità della propria dieta, più frutta, verdura, cereali, meiose integrali, meno carne rossa, grassi saturi, sale, bevande zuccherate. In arrivo nei prossimi anni novità terapeutiche su diabete e obesità. Per esempio le insuline inalatorie, anziché suttocutane o in cerotto. Va ricordato anche che in passato si era pensato di farlo, ma tutti i tentativi erano falliti perché esponevano i pazienti a rischio di complicanze polmonari. Secondo un recente studio presentato al congresso dell'American Diabetes Association, si sarebbe invece dimostrato che l'insulina inalatoria darebbe un minor numero di crisi ipogligemiche e di aumento ponderale rispetto a quella somministrata per via tradizionale, senza provocare complicanze polmonari. Un'ulteriore alternativa all'insulina iniettabile, ancora in fase di studio, è invece il cosiddetto cerotto. Al congresso si è discusso inoltre di un nuovo farmaco approvato dalla FDA, la Food and Drug Administration, l'Agenzia per gli Alimenti e i Medicinali degli Stati Uniti. Si tratta della Lorca Serina. Viene usato come terapia antiobesità, in aggiunta a una dieta ipocalorica e a un programma di esercizio fisico per la gestione a lungo termine dei soggetti obesi o in sovrappeso. Il farmaco però non è stato approvato dall'EMA, l'ente europeo regolatorio dei farmaci, perché non ha ritenuto soddisfacente il suo profilo di sicurezza. Per proteggere la memoria bisogna preoccuparsi di mantenere in salute il cuore. Lo sostengono le analisi condotte da un gruppo di ricercatori guidati da Evan Tucker, esperto dell'Università dell'Alabama e della Brigham Young University di Provo, negli Stati Uniti. I risultati della ricerca pubblicati sul Journal of the American Heart Association hanno dimostrato che dopo i 45 anni di età il rischio di sviluppare problemi di memoria, di apprendimento e nelle capacità di linguaggio è più elevato nelle persone che non godono di una buona salute cardiovascolare. Cuore e arterie agiscono in sinergia per far arrivare il sangue in tutti i punti dell'organismo, cervello incluso. Per questo mantenerli in salute è un ottimo modo per prendersi cura anche del resto dei organi e dei tessuti. Avere un apparato cardiovascolare sano riduce ad esempio il rischio di avere a che fare con le conseguenze del diabete o di livelli eccessivi di colesterolo nel sangue. Questa nuova ricerca, che ha previsto di monitorare lo stato di salute di oltre 17.000 individui di età pari o superiore a 45 anni, ha aggiunto un nuovo beneficio associato al mantenimento di una buona salute cardiovascolare, la protezione della memoria. All'inizio dello studio nessuno dei partecipanti soffriva di problemi di memoria o di apprendimento. Allo stesso tempo nessuno aveva mai avuto a che fare con un ictus. I test condotti per 4 anni hanno svelato che le capacità cognitive dei partecipanti, che ricadevano nel gruppo caratterizzato dal peggiore stato di salute vascolare, erano diminuite nel 4,6% dei casi contro rispettivamente il 2,7 e il 2,6 di chi godeva di una salute cardiovascolare intermedia o migliore rispetto a tutti gli altri partecipanti. I meccanismi alla base di questa associazione non sono stati chiariti, ma Tucker ipotizza che a giocare un qualche ruolo potrebbero essere piccoli ictus con cui i partecipanti non si sono resi conto di aver avuto a che fare. Il messaggio, commenta l'esperto, è incoraggiante, perché mantenere uno stato di salute cardiovascolare intermedio è un obiettivo più realistico per molte persone rispetto a quello di una salute cardiovascolare ideale. A Piacenza la confraternita Misericordia ha avviato un nuovo servizio per aiutare gli anziani soli. L'iniziativa si chiama Telefono Amico. Si tratta di un progetto che ha lo scopo di dare sostegno agli anziani che vivono in solitudine attraverso chiamate giornaliere, sia per aiutarli in eventuali situazioni di bisogno, sia semplicemente per instaurare un rapporto amichevole. Questo progetto nasce da un lungo lavoro di preparazione e si basa su esperienze passate che hanno già attivato servizi del genere. È un progetto che necessita della collaborazione di tutti quanti i soggetti, i medici, gli anziani, i volontari, tutti quelli che hanno dato la loro adesione. Alla presentazione ha partecipato anche il capo dell'Ordine dei Medici di Piacenza, che ha voluto ribadire la grande valenza sociale del progetto per la cui realizzazione sono fondamentali i medici di famiglia. La cartella clinica elettronica è operativa negli Stati Uniti da diversi anni, ma cominciano a sorgere dei dubbi sulla praticità e sui contenuti poco funzionali di questo strumento elettronico. Resta comunque chiaro che la cartella clinica elettronica è uno strumento valido e importante nel campo sanitario e sarebbe sciocco pensare a una reintroduzione di quella cartacea. Le maggiori critiche mosse nei suoi confronti riguardano la prevalenza della funzione contabile rispetto a quella sanitaria, con un impianto generale del modello digitale basato direttamente su quello cartaceo. I programmi informatici fanno poco uso di funzionalità multimediali, tra cui audio, video e grafica intuitiva, e il formato poco si adatta al modo in cui gli operatori sanitari lavorano e pensano. In altre parole, le grandi potenzialità dello strumento elettronico restano inespresse, perché la soluzione adottata negli Stati Uniti è quasi soltanto una semplice copia dei vecchi moduli e serve quasi solo a registrare i dati contabili, fornendo ben pochi aiuti per la diagnosi e la terapia. Per questo, alcuni studiosi del settore medico hanno comparato le loro cartelle elettroniche con altre cartelle mediche che sono operative in altri paesi. La soluzione migliore è stata individuata in Norvegia. Questo strumento sarebbe davvero in grado di sfruttare tutte le potenzialità del digitale. Ogni area richiama informazioni utili sulla storia clinica del paziente, le malattie croniche, esami di laboratorio e immagini mediche. Il sistema funziona su tutti i tipi di computer e sui dispositivi mobili. Il suo software è molto flessibile e fornisce una interazione intuitiva e gestionale delle informazioni. Forti critiche alla soluzione della cartella elettronica statunitense EMR vengono proprio da quello che dovrebbe essere il suo punto forte, la razionalizzazione della spesa. Questo strumento, secondo le premesse, avrebbe infatti dovuto portare a una drastica riduzione della spesa sanitaria. Il risparmio operato doveva in parte compensare gli ingenti investimenti per la sua introduzione. Un nuovo studio pubblicato su Health Affairs 2013 ha contestato però questi obiettivi, evidenziando che i medici mutualistici che hanno accesso ai dati elettronici di cura del paziente sono in realtà propensi a prescrivere più esami rispetto ai medici che invece si basano sui documenti cartacei. Grazie a tutti!